Ciao, oggi sei a Francavilla al Mare, sei con me all'interno di questo appartamento, al primo piano in via Antinori. Ci troviamo esattamente sul terrazzo lato mare, con vista mare. Grazie alla tecnologia a disposizione vediamo quello che è la potenzialità del 360 gradi, spostando il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Apprezziamo quindi anche quello che è l'archiviettonico di questo terrazzo, con un lato più corto, un lato più lungo e l'arco di cemento che caratterizza anche questa tipologia costruttiva.